Ministero della Salute Come lavarsi le mani con acqua e sapone Lava bene le mani con acqua e sapone Per evitare che ti venga un coccolone Fanno impossibile Quando le vedi ben sporche Prendi un bel po' di sapone Diversamente puoi scegliere la soluzione Alcolica L'orata dell'intera procedura a 40-60 secondi Per prima cosa bagna per bene le mani Prendi abbondante sapone Come se non ci fosse un domani E schiaccia sulla frizione E sfrega con decisione Palmo sul torso la via e quella Poi intreccia le mani Come giugas casella Solo quando ve lo dico io Solo quando ve lo dico io Il dorso della mano contro il palmo Posso tenendo le dita strette Fizione rotazione la d'urso L'ha spiegato dai saran perfette Un pollice Un pollice Un pollice Un pollice Un palmo L'altro pollice Sacquo 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 Seconda passata Non è possibile Non è possibile Tenga un coccolone Quando le vedi ben sporche Prendi un bel po' di sapone Diversamente puoi scegliere la soluzione Alcolica Asciugare con un panno asciutto Ricordate di chiudere l'acqua E adesso Attenzione a dove le metti Ma non è possibile Non è possibile Grazie a tutti